E bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Ragazzi oggi siamo con un video di Fortnite in arena in solo dove ho fatto veramente il devasto Ma prima di dirvi quello che è successo ragazzi vi volevo ricordare che questo sabato all'ore 13 uscirà un video dove reagirò alle vostre postazioni da gaming Quindi se anche voi volete far parte del video che uscirà sabato mi raccomando seguitemi su Instagram Trovate il link qui sotto in descrizione e inviatemi nei direct la vostra postazione con una o due foto Oggi ragazzi era una giornata veramente tranquilla ero molto rilassata molto stanca ed ebola a causa del caldo Perché qua a Milano ragazzi è arrivato un sole e un caldo veramente che spacca ogni singolo condominio Ma a un certo punto ragazzi mi ero arrabbiata mentre che stavo giocando a Fortnite perché trovavo dei player veramente fastidiosi Quindi mi sono arrabbiata e è uscito tutta la mira che c'era dentro di me e ho fatto ben 21 kill nel gran chilling in arena in solo a Lega Campione Quindi spollicciate da subito il video e iscrivetevi al canale e vi ricordo che mi trovate tutti i giorni dalle ore 17 in poi sul mio canale viola in live streaming Quindi ragazzi vi aspetto anche solo per un saluto link in descrizione Ma ora ragazzi non perdiamoci chiacchiere che abbiamo parlato fin troppo e passiamo al gameplay vi auguro una buona visione Credo che la prende lui l'arma si la prende lui sbagliato Possiamo ancora recuperare l'errore? Ok Me l'ha stilato Merda divina Contanto che c'è 5 kill non ho comunque i shield assurdo Non ho ancora shield Ora ce l'ho Sono finiti o no? P***o Fra c'è uno di vita Oddio Grave l'errore farsi la shield così fra Beitato baby Sei stato sussibachizzato Sai tipo quando ti svegli e ti sentite un po' sussibaca? Vi svegliate ma vi sentite proprio sussibaca Cioè voi vi svegliate e dite Oggi sono veramente sussibaca Palesi Ecco io ho così oggi È il caldo che mi dà la testa ragazzi Con tutto che ho il pinguino acceso A 20 gradi Fa comunque caldo raga vi giuro Infatti sta cosa non è normale Dovrei sentire freddo e invece sento caldo Ma la chi c***o è questo che spara? Allora E ho capito Sussibaca è che ci devo fare io La vita è fatta così O sali o scendi E anche quando sali a volte scendi Buonasera cosa mi vende lei? Hmm interessante Vado un p***o Ma che c***o stai facendo? Perché cavalchi il coso? Però tutto bene Lui voleva cavalca... Raga lui era il cavalcatore dei poni Che c***o è? Log rider lì di Clash Royale Oh c'è un c***o qua Ma raga garantito Ho visto la roba a spaccarsi Ma 20 bombe posso farle? C***o posso fare 20 bombe raga? Oh 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 Posso fare 20 bombe? Non me ne raccom... Ok ora mi carico Potrei caricarmi No 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 fra Sono giovane Sono minorenne C'ho 14 anni Per favore non toccarmi No fra 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 Per favore la protezione Oh Porco dia Vieni da una armata Basta Questo c***o è che... C'è veramente Questo c***o è messo lì dentro No di avere proprio un problema Di giuro fra Ma veramente A un livello proprio estremo Cioè non puoi fare queste cose Devo andare a fare le kill ragazzi Voglio fare le 20 Eh madonna fra i rifarcito come Cioè proprio come Come se non ci fosse un don Eh No 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 Non sparare c***o Per favore C***o non spararmi Aspetta un attimo C'ho madre e figlia Per favore aspetta C***o che mi spara Ma ho ancora questo No raga Devo farlo Devo farlo Devo farlo Mi giuro mi ha rotto il c***o questo Come fai a giocare così in arena fra Come fai? Come fai? Come fai? Camperone del c***o? Impara a giocare va A camperare qua in arena Da mezz'ora che mi spara a distanza questo Da mezz'ora Da cinque ore Vi giuro Che è l'altro c***o che mi sparava Nooo Sarà nel bush raga Uno è là Peccato Ho messo uno shot Che non potevano ammissare Così lo craccavo All'aco Che anzi Ok Spara a distanza Ma non spari più Ora Il prossimo Non chiedo se ho fatto una splash Fattene un'altra Non spari più? Hai finito di sparare? Oh Vedi ci volevo così tanto Era una roba di un secondo Vedi Era così semplice Che è l'altro che mi sparava da mezz'ora A distanza Da otto chilometri di distanza Vi giuro Basta Ma che c***o è questa? A me Ah c***o Nooo Con onore Mi sono un attimo svegliato Vedete Ve lo faccio il game Però oggi sono così rilassata Che 21 bombe In saccoccia Ce le portiamo 4 capi di danni e passa E si vola GG GG per C Bene ragazzi Bene ragazzi Siamo giunti al termine di questo video Come avete visto abbiamo fatto il panico più totale Mi sono arrabbiata E ho ucciso 21 persone così Su Fortnite In maniera proprio Pim pum pam 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 Proprio in modo estremamente E mi sono divertita anche perché è stato veramente un bel game Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su Noi ci rivediamo ovviamente in un prossimo video E vi ricordo ragazzi inoltre che questo sabato Alle ore 13 Uscirà la mia prima video reaction Alle vostre postazioni da gaming Quindi non perdetevi il video di sabato Perché sarà veramente una bomba Quindi ragazzi Allora la vostra grande miss è tutto Noi ci becchiamo sabato alle 13 Con il prossimo video Bella a tutti ragazzi